Si chiama Bob Bardet ed è un uomo che oggi è vivo ed è sano ed è stato salvato, pensate, dal suo Apple Smartwatch 4. È stato proprio questo strumento della Apple, la casa per eccellenza di Cupertino, a salvare all'uomo la vita. È stato provvidenziare l'intervento probabilmente non voluto di questo strumento che a molti può apparire come uno strumento inutile ma che di fatto è stato, è a tutti gli effetti più che utile perché ripeto che è riuscito a salvare la vita a quest'uomo che oggi se ha questo pianeta e se non è finito sottoterra deve dire grazie all'Apple Smartwatch 4. Che è stato uno strumento di provvidenziale aiuto, di grande, grande, grandissimo contributo. Gli ha salvato la vita e gli ha permesso di rimanere ancora vivo. Bene, vi ringrazio per la visione e per l'ascolto di questo video di oggi. Gentilissimi utenti di YouTube, iscrivetevi se vi va, commentate e al prossimo video dal vostro Leandro, alias dal vostro Maratore Italiano.